Il sorteggio ha detto che Manfredonia Atletico Campofranco si giocherà prima al Miramare e poi a Casteltermini in provincia di Agrigento. La finale play-off di eccellenza andrà in scena già domenica prossima, 9 giugno, ore 16, con la gara d'andata allo stadio Miramare, di fronte ai siciliani del Campofranco che in semifinale hanno eliminato il Valdiano. Per il Manfredonia di Franco 5, un avversario nuovo, poco conosciuto, ma da rispettare. Non siamo una squadra che fa calcoli, siamo coscienti di avere una squadra competitiva. So che il Campofranco è altrettanto una squadra di altissima qualità, con giovani interessanti, per cui sarà sicuramente un doppio confronto tutto da giocare. Il tecnico Biancoceleste sta preparando il match di domenica con le giuste motivazioni. Sia in casa che fuori giocheremo la nostra partita con le nostre armi, rispettando l'avversario che, ripeto, è altrettanto forte. Cinque che dovrà fare a meno dell'esperto difensore d'Arienzo, squalificato per un turno, teme il tridente d'attacco dell'atletico Campofranco. Sì, so che il trio d'attacco sicuramente hanno tantissima qualità, gente veloce che ti può mettere in difficoltà in qualsiasi modo. Però, ripeto, in genere si vince con la squadra e non con i singoli e penso che anche in questo caso è la squadra che farà la differenza. Al Miramare di Manfredonia si aspetta il pubblico delle grandi occasioni. La Serie D, questa volta, è davvero ad un passo. È un sogno perché quando sono arrivato a novembre sicuramente puntavo a una situazione di questo tipo. ci è voluto tanto sudore, sacrificio ed essere arrivati ad un passo sicuramente ti dà tanta motivazione. Per cui cercheremo di non sbagliare, ma non sarà facile perché troveremo una squadra altrettanto motivata.